Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere questo errore su fortnite ovviamente qui c'è scritto tu sei stato rimosso dalla partita a causa di un ritardo lag o per il tuo indirizzo IP oppure perché stai usando una VPN oppure perché stai citando quindi in questo caso se non stai citando su fortnite c'è un metodo per risolvere questo problema è quello un attimo di riavviare chiudere direttamente Epic Games aprire così il famoso launcher Steam quindi vai nella tua libreria vai su aggiungi un gioco aggiungi gioco nodi Steam e vai a mettere Epic Games aggiungi programmi scelti una volta fatto possiamo avviare Epic Games direttamente da Steam e provare a vedere se si è tolta quella scritta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti